Ciao a tutti ragazzi, sono Zombies e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò il mio primo e vero unboxing riguardo le mie nuove cuffie con microfono incorporato. Ho comprato queste cuffie a solo 30€. Beh, buon prezzo per queste cuffie. E passiamo all'unboxing. Allora, come possiamo vedere, queste cuffie sono della Crown. Ok, allora, si apre per di qua, credo. Sì. Ops. Comunque. Ecco qua le cuffie. Adesso le estraiamo dal supporto. Mi sembrano molto comode. Qui si può entra a vedere il microfono. E questo è tutto il filo, con il volume anche. Regolazione dell'altezza delle cuffie. Qui è tutto di pelle. Belle cuffie. Ora farò i video con queste qua. E a breve arriveranno due nuovi video. Quindi, niente ragazzi, io vi saluto e vi ricordo di passare dal canale di Joinset09 e i XIAX. I canali li lascerò in descrizione. Quindi, niente ragazzi, io vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao.